Per il lavoro stabile, sicuro, tutelato e dignitoso. Per il lavoro ci metto la firma. La CGL promuove la raccolta firme per un referendum. I dati del resto sono allarmanti. Il lavoro in Italia è troppo precario, i salari sono troppo bassi, tre persone al giorno muoiono lavorando. E per realizzare il massimo profitto possibile, appalti, subappalti, finte cooperative, esternalizzazioni di attività, sono diventati in qualche modo normali modelli organizzativi. Il referendum punta ai diritti di tutti. Per dare a tutte le lavoratrici e i lavoratori il diritto alla reintegrazione del posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Per innalzare le tutele contro i licenziamenti illegittimi per le lavoratrici e i lavoratori che operano nelle imprese con meno di 15 dipendenti. Per superare la precarietà dei contratti di lavoro. Per rendere il lavoro più sicuro nel sistema degli appalti. E per il lavoro, stiamo raccogliendo stamattina, ma siamo presenti praticamente su tutto il territorio salernitano. Per quanto riguarda noi dell'organizzazione di Salerno, ma su tutto il territorio nazionale, per la raccolta della firma per la tutela dei lavoratori. Per abrogare questo articolo 18 che è stato ripristinato e perché i licenziamenti siano solo per giusta causa e non possono essere a discrezione solo del datore di lavoro. Per eliminare questo precariato che purtroppo in Italia ci sta portando alla perdita di posti di lavoro e a un lavoro incerto e insicuro che non può garantire poi per le famiglie una sopravvivenza adeguata. Quindi il lavoro a tempo determinato deve essere stabilizzato il lavoratore. Per quanto riguarda invece questa abitudine che c'è in Italia di dare l'azienda appaltatrice in subappalto e chi la prende in subappalto ulteriormente in subappalto quei lavori, questo è un qualcosa che non va bene. E bisogna innanzitutto che le istituzioni si attivano per dei controlli, controlli adeguati perché quello che manca oggi è un controllo. Non dovrebbe esserci la necessità del controllo perché chi dà del lavoro alle persone dovrebbe darle in sicurezza. Solo che quando appunto come parlavo prima di appalti, di appalti, di appalti e subappalti vengono a mancare gli strumenti necessari per dare la sicurezza. Perché si fa sempre a ribasso. Quando manca la sicurezza, mancano gli strumenti giusti e l'informazione giusta ai lavoratori per lavorare in sicurezza, succede quello che sta succedendo. Purtroppo oggi troppo spesso noi abbiamo tutti quanti gli stessi diritti. Le donne hanno gli stessi diritti degli uomini e noi siamo favorevoli a che queste situazioni vengano portate. A chi dà il lavoro e non generalizzi perché la donna ha il problema di poter andare in maternità e non è un problema. Anzi, come sappiamo in Italia, l'indice di natalità pure è basso. Questo referendum ci auspichiamo che faccia la differenza. È una battaglia che abbiamo intrapreso solo noi della CGL. Avremmo voluto a fianco anche le altre sigle sindacali, confederali, perché il lavoro non interessa solo la CGL, dovrebbe interessare tutti.